Ciao amici dei staff, oggi una brevissima recensione di Flucard Pro, una scheda di memoria non convenzionale. Cosa succede? La prendete, la infilate dentro nella vostra macchina fotografica normale, basta che sia un SD, e lei automaticamente è un trasmettitore Wi-Fi, quindi voi scattate foto, prendete una rete Wi-Fi o addirittura vi connettete alla sua rete Wi-Fi interna, perché è dotata di chip Wi-Fi interno, e scaricate le foto su tutti i vostri dispositivi, come vedete qua, computer, altre macchine fotografiche, iPad, iPhone. Addirittura, vi faccio vedere una chicca, per iPhone c'è la sua applicazione, sono sul sito di iTunes, c'è la sua applicazione che costa circa 2€ e vi fa scaricare direttamente dalla macchina fotografica all'iPhone le foto che fate. Quindi che so, pensate, siete in vacanza, fate delle foto con la vostra Reflex, automaticamente le scaricate sull'iPhone e le postate su Facebook, oppure le mandate dei vostri amici. Per altre info più dettagliate vi aspetto in negozio o sulle nostre recensioni online. Buona giornata ai staff!